ragazzi buongiorno a tutti finalmente dico finalmente il primo video della stagione diamo il via alla nuova stagione 2024 con questo video era mesi 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 che che volevo farlo volevo farmi un'uscita troveremo qualcosa no non credo però ci si prova mai dire mai e finalmente possiamo dire che la nuova stagione 2024 ha di inizio dove siamo siamo in valtellina dai 700 800 più 800 900 massimo mille metri è praticamente due tre settimane che sta piovendo di rotto cioè non si ferma un attimo anche adesso si è fermato un secondo infatti sono uscito speriamo di vedere qualche movimento non mi aspetto neanche più di tanto però al massimo ci facciamo un'uscita che è l'obiettivo della giornata andiamo ragazzi stiamo entrando in un bosco nuovo da me sconosciuto quindi è tutta un'esplorazione come vi dicevo avevo troppa voglia troppa voglia di farmi un giro quindi bosco nuovo 850 metri partenza e non so cosa aspettarmi faggio misto qualche castagno misto qualche abete un po più in alto però ci si prova ci si prova perché volevo iniziare quindi è tutto nuovo anche per me andiamo insieme raga per adesso 10 minuti o quarta d'ora che siamo nel bosco non ci sono buone notizie vabbè come d'aspettativa ci toccherà sicuramente abbastarci un pochino come vi ho detto all'inizio video che veramente è un posto in cui io non ho mai cercato quindi non sono mai venuto ci toccherà sicuramente spostarci che ho già individuato un'altra zona un po più bassa con un bel po di misto perché qua mi sa che mi sa che ancora un po presto giustamente però intanto ci vediamo il bosco niente raga come previsto questa quota e questo tipo di bosco è ancora un po presto c'è del movimento però niente di che c'è tanta di quell'acqua che fa paura serve sole 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 e allora sì che le cose spareranno fuori adesso ci proviamo ad abbassare un pelino comunque mi mancava troppo veramente anche a non trovare niente così mi mancava da morire quindi tanta tanta roba lo stesso se devo prendere la macchina che è un po più distante e ci spostiamo quel senso di libertà che che ti dà anche solo essere qui senza senza trovare nulla per me è una sensazione impagabile poi ognuno la vede a modo suo ma per me ragazzi è veramente come penso per molti di voi la sensazione più bella del mondo quindi per chi segue ancora il video e non è entrato solo per vedere se ho trovato qualcosa sono contento anche se solamente vi riesco a trasmettere quello che quello che provo quello che penso proviate tutti stiamo spostando ma qua il tempo fa veramente schifo proprio c'è un tempo del cavolo vedere uno scorcio di sole questo periodo qua è un po improbabile però complica il tutto ecco adesso ci proviamo ugualmente qualche minuto ma la vedo veramente grigia veramente veramente grigia allora sono provato ad entrare ma la tioggia veramente è incessante cioè veramente incercabile è troppo 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 piovoso eccoci quota 7 90 senza salite un pelino allora ci siamo spostati su una zona un po più bassa fate adesso il bosco è completamente cambiato è completamente diverso anche qua però per adesso siamo a cappotto totale non previsto ma va bene così tempo è diminuito un po' ma ragazzi sono fradicio completamente comunque nei commenti se avete già fatto qualche giretto fatemelo sapere assolutamente fatemelo sapere tutte qua scrivetemi comunque se siete della zona aggiornamenti se avete voglia adesso sicuramente inizieremo a fare un po' di video poi niente adesso ci facciamo un girettino qua se c'è qualcosa vi aggiorno se no mal che vada mal che vada vi subite questo cappotto insieme a me ragazzi sono fradicio completamente con questa clip finale vi comunico che ufficialmente abbiamo preso il primo cappotto della stagione però vabbè ci sta era tutto preventivato le prossime uscite adesso magari andrò nelle mie zone dove conosco un po di più io colgo l'occasione per invogliarvi ed iscrivervi al canale anche se dai purtroppo non ci sono stati funghi ma ci siamo divertiti lo stesso abbiamo preso una boccata d'aria noi ci vediamo al prossimo video e speriamo che iniziamo a venire anche a quote un po più alti dove faccio un po più da casa così giocheremo un po più a nostro favore sulletto la macchina adesso vi saluto ciao ragazzi al prossimo video